Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi aspetto oggi pomeriggio, dalle 4 di pomeriggio, per affrontare il nuovo evento che ci rivederà al trasporto dei vaccini anti-covid-19, covid-sans-19, sia su Aerotrack che American Track, o uno dei... un solo gioco. Vi aspetto oggi, dalle 16, il link è in descrizione, in live, dove affronteremo appunto questo evento, ok? Tutte le informazioni ve le darò durante la live. Non mancate, ciao!